Ciao! Video veloce e leggero anche oggi per finalizzare quanto detto su questo Crowview Note 14. Questo dispositivo qua è un portatile zombie, si può dire, un portatile che da solo fa quasi nulla, che ha bisogno di una sorgente di input per funzionare, quindi ci potete collegare una Raspberry Pi, un mini PC, oppure qua sulla USB-C ci collegate il vostro smartphone Samsung con DeX e avete tutto qua con la comodità di uno schermo grande, di una bella tastiera e di un touchpad. Purtroppo il touchpad non si può definire comodo, ma questo è un altro discorso. È un'idea che va avanti da tanti anni, lo sapete, ricordate i Motorola, l'AppDoc, quella che si comprava con gli Atrix, è un'idea che tanti produttori hanno negli anni cercato di portare, sono in commercio anche i NextDoc, ce ne sono diversi, e questa forse è la più completa, perché non include solo schermo, tastiera e touchpad, ma anche una batteria da 5000 mAh, che è piccolina ma ha le sue due ore buone, le fa, insomma diciamo di alimentazione del tutto, due ore buone assolutamente le fa, ha due speaker, piccoli eh, qua sul retro, comunque c'è l'uscita audio, c'è il jack audio anche, ha microfoni e poi ha tutta una serie di funzionalità USB per personalizzare un po' lo schermo, quindi regolare il colore e tutto il resto, che sono cose che solitamente non si trovano, c'è anche la possibilità di switchare il segnale, perché voi qui potete magari aver collegato uno smartphone e qui aver collegato la Raspberry e voi potete usare diciamo la Dock alternativamente per uno o per l'altro premendo il tastino qua. Vi faccio vedere le porte, che a vederle così sembra una roba un po' complicata, ma da un lato c'è la USB-C, jack, cuffia e una USB-A, accanto vedete questa qua in fondo è purtroppo una delle sue pecche, ovvero il connettore di alimentazione, perché la batteria interna si alimenta soltanto da questo orrore qua, che è un 12V 4A, quindi 48W, che sono tanti, però insomma si potevano anche, ops, si potevano far gestire da un connettore tipo USB-C, trovare una cosa diversa per evitare di portarsi in giro questo affare, perché quando finisce la batteria solo lui la può caricare e questo è un po' un peccato devo dire, anche perché la batteria può alimentare anche un dispositivo esterno. Questa invece è la mini HDMI e questa è la USB-A. Voi in confezione trovate questo coso qua, adesso lo stacco, l'ho collegato alla mia, anzi ve lo faccio vedere, prima ho collegato alla Raspberry, questa è una Pi 5, Pi 5, con 8 giga, spropositata, ci ho messo questi dissipatorini sopra, ma comunque scalda troppo, ci devo mettere un telaio fanless oppure la devo vendere, molto probabile. Ne trovate anche un altro per il Jetson Nano, la schedina di sviluppo, ve lo faccio vedere così direttamente. Con questo sistema voi riuscite a inserirla qua. Vediamo se riesco a mettere a fuoco tutto, si, vedete? E voi così avete inserito la vostra Raspberry e adesso se io lo accendo, lo apro, lo accendo con il suo tasso d'accensione e parte il sistema operativo che è qua dentro. Praticamente lui è diventato un sistema di controllo per la Raspberry e la sta anche alimentando tramite la USB-C. Questa è una cosa importante, quindi la batteria interna alimenta anche la USB-C, quindi è importante caricarla e tenerla caricata, no? Per quello dicevo che l'alimentatore un po' così è scomodo. Adesso vedete è partito, questo è il Raspberry Pi OS, Raspberry OS a dire la verità. Avevo fatto tutta una rise bellissima che ci sono 8 giga e la WC, è tutto carino e tutto il resto. Poi un giorno mi si è spenta la batteria, non mi era accorto che era scarico, praticamente si è rovinata la scrittura, vedete? Sapete, era RAM, quindi non c'era nulla saldovata sul disco. Insomma, si è rotto tutto, ho perso tutto e ho detto basta, basta, non ci perdo più tempo. Ho installato il suo sistemino carino che comunque con la Pi 5 va benissimo, con 8 giga di RAM è molto carino e molto funzionale e io a questo punto posso staccare la Raspberry. Ora, brevemente, lo schermo è molto molto buono, 14 pollici, full HD, PS, 100% sRGB, non ho con me la sonda per fare i test, il colorimetro, però è davvero uno schermo buono, soprattutto opaco, si vede bene in esterna, c'è la regolazione della luminosità e questa è una delle cose che mi è piaciuta di più veramente, perché questo alla fine è uno schermo, come dicevo, con tastiera e touchpad e quindi l'importante è che sia buono e lui è un bel pannello. La tastiera è alta, ha un buon feedback, devo dire, ha un problema che dopo vi dirò, non proprio la tastiera insieme, ma tutta la costruzione, ha il layout ovviamente americano, ora non so se poi nella campagna Kickstarter che lo vedrà protagonista, anzi dovrebbe essere già online, ma mentre io registro non è ancora. Non so se verranno proposti altri layout, però comunque è layout americano ed è una tastiera con la quale si scrive bene, non è chiaramente la tastiera di un ThinkPad o di un Mac, però è una tastiera decente. Il touchpad invece, secondo me, no, perché è in plastica, ha questi click incerti, i touchpad purtroppo sono quelle cose che se si sono fatti male ti rovinano proprio l'esperienza, perché tu ti metti là, poi adesso siamo tutti abituati a fare gesture, swipe, di qua e di là, e avere un touchpad che non è un granché, che ti riporta veramente indietro di dieci anni, non è il massimo. Diciamo che è di supporto e alla fine l'ho sempre usato collegando qua alla USB un mouse esterno, la trackball e alla fine si risolve in questo modo. L'audio è accettabile, i due speaker interni sono di supporto e così qua sopra ci sono dei comodi, comodi led, diciamo comodi spunti di segnalazione soprattutto per farvi vedere e farvi notare quando la batteria si sta scaricando, perché c'è un pulsantino qua che vi mostra l'iconcina, però quando questo diventa rosso significa che la batteria sta finendo. Però al di là di tutto, quello che io ho trovato, il compromesso di questo coso è buono anche, vedete che la scerniera si apre fino a 180 gradi, il compromesso è quello che sentite. È tutto in plastica, il telaio è quello classico di altri laptop diciamo no brand che si possono comprare in Cina, ce ne sono anche altri fatti così, peccato perché con una costruzione diversa, un pochetto più solida avrebbe avuto tutta un'altra storia, se voi qua ci mettete un telaio in diciamo in alluminio, bello solido, diventa un'altra macchina, automaticamente diventa un'altra macchina. Quindi spero che magari poi nella campagna Kickstarter e tutto il resto vengano proposte delle varianti con un telaio un pochetto più robusto, perché questo è veramente quando lo prendi dici è un giocattolone. I costi, io al momento non so i precisi perché la campagna Kickstarter è ancora iniziata e non mi hanno voluto dare il costo preciso, mi hanno dato un range dai 109 dollari ai 139 dollari. Ora io credo che se resterà attorno ai 100 dollari, magari con le prime offerte, come si chiamano, i primi sostenitori di solito prendono sempre un po' di sconto, comunque attorno ai 100 euro ha senso, perché lo schermo esterno, le porte e tutto il resto veramente è il suo prezzo, uno schermo esterno buono di qualità così magari costa un po' meno, ma è solo schermo e questo invece ha tutto il resto e può far comodo in mille contesti anche a casa, ma anche se siete diciamo anche se non siete dei sistemisti che vanno in giro ad attaccare cose, questo è fenomenale in quel contesto. Se dovesse però costare sui 150 non lo so, diciamo il mio giudizio sarebbe molto più critico, molto più critico. Attorno ai 100 euro secondo me ci sta, attorno ai 150 secondo me non ci sta. Ora vediamo come, quale sarà il prezzo, il prezzo finale. Va bene, va bene, è tutto, maggiori informazioni le trovate sulla campagna Kickstarter appunto, là c'è scritto tutto quanto, vi lascio il link in descrizione. Se poi avete qualche test particolare da farmi fare, sono qua, sapete sapete come fare. Ciao!